Accanto a me il presidente dell'ente parco da Spromonte, Giuseppe Bombino. Buonasera. Buonasera a lei. Innanzitutto le rivolgo la mia solidarietà per quello che le è successo giorni fa. Prima si parlava anche di chi fa istituzioni, intrecce è sempre difficile. Lei come riesce, nonostante le varie intimidazioni, ad affrontare con molto coraggio tutto questo? Beh, è il coraggio che ti proviene dal senso del dovere, dal senso del servizio, pur nella consapevolezza che non aspiriamo ad essere eroi di questa terra, ma testimoni di un cambiamento. Noi, assieme a tutto il sistema e a tutta la società. Dunque non è un atto di coraggio, è un atto di responsabilità e la consapevolezza di dover compiere fino in fondo il proprio dovere per contribuire, seppur coi limiti connessi con le difficoltà che ci sono, a portare avanti un messaggio, che è un messaggio di speranza per questa terra. Io ricopro un ruolo che mi porta a presiedere una istituzione che ha come obiettivo quello della conservazione della natura, della biodiversità, conservazione di valori, che sono valori fisici, tangibili, che non possono disgiungerci però da altri valori, che, seppur intangibili, sono quelli che comunque devono condurci ad elevare il nostro pensiero. Allora, immaginare di proteggere la natura, quindi gli elementi che essa esprime, senza immaginare di dover anche difendere la legalità, la tradizione di questa terra, la sua cultura, la sua speranza, i suoi figli, significa non compiere fin in fondo il proprio dovere. Allora io non vedo una separatezza tra il coraggio, la responsabilità, la missione, il ruolo e l'obiettivo che nel campo, nell'ambito del mio ruolo voglio perseguire. È un tutt'uno, è un tutto che non può ammettere sfumature né pieghe, è un tutt'uno che si affronta e si abbraccia completamente. Dunque, nell'affrontare, nell'abbracciare questa missione è chiaro che bisogna mettere in campo anche che in questo abbraccio spesso si possa anche incontrare uno spigolo di una sperità. Molto spesso noi calabresi siamo primi in tutto, ricordiamo come nel 1975 a Giogeo Saionica c'è stata la prima marcia contro la mafia, perché a volte ci perdiamo per strada? Allora intanto mi fa piacere che lei ricorda questa cosa, il primato noi ce lo abbiamo come lei ha ricordato in tanti aspetti della vita e sono queste le cose che noi vorremmo restaurare, sono queste le cose per cui noi vorremmo passare alla storia, ma laddove c'è un progetto c'è anche un antiprogetto. È più importante il progetto, più avversario, noi più avversari incontriamo per strada, lungo la nostra strada. Quindi di fronte ad un progetto si fatto e così alto ci dobbiamo attendere che ci siano degli oppositori. L'importante è non perdere di vista questo progetto e l'importante è essere consapevoli che è quella la strada che noi vogliamo seguire. La manifestazione che ci fu nel 1975, come lei ben ricordava, è la prima manifestazione di protesta civile di una civiltà, di una società che si opponeva alla logica della sopraffazione, alla logica del terrore, alla logica del contrasto alle sane istituzioni che veniva operata già da un fenomeno dranghetistico che si evolveva e quindi mostrava già tutta la sua pericolosità. E questa terra è piena di coraggiosi, è piena di coraggiosi. E quando il coraggio diventa un sentimento comune, allora significa che scompaiono gli eroi e tutta l'umanità di una comunità diventa eroina. E allora non ci sono più eroi, ma ci sono gente normale, ci saranno gente e popoli, uomini normali che compiono ciascuno il proprio dovere e quindi siccome si riconoscono in quel dovere e in quel percorso, abberrano e respingono ogni forma di violenza. Secondo lei quando finiranno le fiaccolate, i cortei in cui partecipano molto spesso dei malvimenti camuffati da pennacchio? Ebbè questa è una deriva purtroppo che ci riservano gli aspetti della vita. Non possiamo condannare le fiaccolate perché occorre prendere lo spirito e il sentimento buono che ci sta dietro iniziative del genere. Ma come dicevo è chiaro che spesso ci si mimetizza come dietro ad una maschera per mescolare, per diluire i propri intenti negativi dietro iniziative che invece nascono da tutt'altro e più alto sentimento? Penso che stia nell'ordine delle cose. Ecco è sbagliato semmai immaginare che la fiaccolata e il corteo possa risolvere le situazioni. Può sensibilizzare sicuramente, ma questa fiaccola potrebbe rimanere in mano e poi ci si brucia le mani se il percorso è troppo lungo. Dobbiamo far seguire alla fiaccolata anche azioni concrete come peraltro è stato ricordato questa sera perché lo dobbiamo ai nostri figli e lo dobbiamo ai martiri di questa terra che hanno sacrificato la loro vita, che non hanno acceso fiaccole ma sono andati in trincea per contrastare il fenomeno. Allora è bene la cultura che può salvare, come si dice, ma la cultura salva quegli ambiti, quei contesti in cui c'è una subcultura. Allora è chiaro che occorre incidere, creare eventi in cui si porta al centro della discussione l'argomento che in questo momento affligge la nostra terra, però non basta. Assieme a questo occorre immaginare azioni parallele di accompagnamento e quindi ciascuno, come si diceva prima, deve compiere il proprio dovere. La società civile non ha altri termini e altri modi per contrastare il fenomeno, se non attraverso la presa di coscienza, la testimonianza di questa presa di coscienza, ecco le fiaccolate e i cortei, è il cambiamento culturale, la sensibilizzazione, far vedere che c'è altro e far vedere che c'è un numero di persone che sono pronte a mettersi in processione dietro un valore. È chiaro, come dicevo prima, che questo non basta, ma è questo quello che può fare la società civile. Poi ci sono altri apparati, altre istituzioni dello Stato che evidentemente non scenderanno a fare le fiaccolate perché immaginano e progettano mezzi più diretti di contrasto, ma non le vedranno in antagonismo le cose. Certo, è chiaro che c'è sempre il virus che si insinua nell'organismo più sano che cerca di reagire, ma quanto più l'organismo è sano, quanto più riesce anche ad aggregare cellule sane intorno a sé, tanto più il virus verrà isolato, incapsulato e respinto. Secondo lei qual è il male maggiore, l'andrangheta o la rassegnazione del cittadino? Penso che l'andrangheta abbia un suo bacino di alimentazione in quelle porzioni, in quegli strati della società civile che non vedendo altro mezzo per poter risolvere situazioni spesso anche di sopravvivenza attingano a questi pseudo valori perché con tale termine vanno identificati. Allora dobbiamo ricordarci che l'andrangheta si alimenta anche del disagio sociale. Lo è stato ricordato anche questa sera quando si è parlato di giustizia, quando si è parlato anche di opportunità. laddove c'è l'andrangheta c'è una domanda intanto di indrangheta, cioè c'è qualcuno che si beneficia della presenza dell'andrangheta. Per esempio il trasferimento della droga, nel quale noi siamo purtroppo campioni, può avvenire se da qualche parte questa domanda di droga c'è. E allora penso alle città del nord che sono, diciamo, mete, destinazioni in cui questo traffico si realizza che chiamano a questa droga, quindi chiamano alla criminalità e attingono a contesti in cui non essendoci altre opportunità questo viene visto come una soluzione. Ecco, c'è subcultura, c'è un po' di mito che gira intorno a questo fenomeno, come è stato ricordato stasera, c'è una sorta anche di rischio di presentare un messaggio un po' ambiguo. Ecco, si corre sempre la pericolosità, si corre sempre nel pericolo di veicolare un messaggio deformato, specialmente laddove si attribuisce all'andrangheta anche una sua attitudine verso la ritualistica, verso la sacralizzazione di alcuni aspetti che la caratterizzano. Ecco, noi non possiamo essere liquidi rispetto al fenomeno dell'andrangheta, noi dobbiamo solidamente sostare in una posizione che è la posizione che guarda all'andrangheta con distacco, con diniego e con contrasto. Un'ultima domanda, un cantautore, Francesco Guccini, cantava una canzone che ai bordi delle strade, dei cortili, Dio è morto. In Aspromonte Dio è morto? Dio è morto, molti fiori si sono spenti in Aspromonte, se metaforicamente ci riferiamo ai castighi che questo Aspromonte ha dovuto registrare negli ultimi anni. Ma io reputo che in Aspromonte ci siano più altari che sepolture, e allora su quegli altari siamo pronti a fare non sacrifici umani ma deposizione di fiori. Il fiore induce a pensare alla primavera, alla fioritura, ai profumi ed è questo che io auguro a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. In bocca al lupo per la sua lotta e alla prossima. Grazie, grazie, buonasera.